Ciao a tutti ragazzi e buon ritrovato nuovamente qui signori in un nuovissimo video su Gamehug. Signori, anche oggi Gamehug mi ha contattato per propormi qualche interessante novità. Allora ragazzi, vi avviso già da ora, vi dico già da subito le notizie più importanti, così se il video magari non vi interessa vi guardate i primi minuti. Dal 23 novembre al 26 novembre, appunto per il periodo del Black Friday, Gamehug metterà in sconto, andando in questa sezione nei cofanetti, cioè tutto quello che vedrete sarà in sconto del 50%, quindi il tutto costerà la metà del prezzo. Poi, altra cosa importante, questa cosa personalmente a me non fa impazzire, anzi mi dà pure particolarmente fastidio, però mi hanno detto va fatto, mi hanno fatto creare un ulteriore account, quindi se volete far gem, volete ritirare questi cofanetti, dovete riregistrarvi, quindi sì, con il nuovo link che vi lascerò in descrizione. Voi direte, Pepo ma ogni volta ci dobbiamo fare un account nuovo? Eh raga, sfortunatamente è così. Comunque vi lascerò sempre qui sotto in descrizione i link da dover andare a inserire in questa cosa, andando su ottieni, mostra più, vi rilascerò dei codici, una volta che vi sarete registrati e bla 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 bla, andando su inserisci il codice e inserendo, in questo caso mettiamo il primo codice, che per riscattarlo dovrete aver preso almeno 500 gemme, vi darà questo cofanetto che a me hanno già dato, ovvero il cofanetto del novizio, mentre col secondo codice, che non lo vado a inserire, vi daranno il cofanetto dell'arcimago, ovvero questo qua. Per ottenere questo cofanetto vi serve un account che di base abbia ritirato almeno 2000 gemme, ok? Se non sapete di che cosa sto parlando, sappiate che questo sito è sia affidabile, su questo potete stare tranquillissimi, perché tanto non potete comprare nulla, non c'è nulla da poter comprare, quindi soldi non ne spendete. L'idea di questo sito, detto molto easy peasy, vi permette in questa sezione di acquistare giochi, da adesso non solo più giochi su Steam, ma verranno implementate anche le key di tanti altri giochi su PS4 e Xbox, Xbox, ok? Quindi capite bene, potreste acquistare giochi tipo Fallout 3, Hitman e chi più ne ha più ne metta, poi comunque se vi interessa vi andate a spulciare meglio voi i premi. Il tutto come funziona? Ragazzi non vi rifaccio il pippone sinceramente, vi lascerò nelle schede qui in alto il video dettagliato che ho fatto su Gamehug, dove vi spiego come farmare gemme e grazie a queste gemme comprarvi i giochi gratuitamente, ok? Vi posso assicurare che il tutto è affidabile, cioè davvero qui vi do la mia garanzia sotto questo aspetto, se non ci avete sbatti di comprarvi i giochi, di magari spendere 50€ su un gioco, potete ritirarli in questo modo. Poi nella sezione cofanetti, vediamo se già li hanno giunti, ancora non ci sono, credo, boh adesso non so bene, verranno aggiunte comunque ceste dei giochi per PS4 e Xbox, quindi se vi potrà interessare potrete acquistarle, più che altro in questo periodo, magari se avete culo ottenete qualche chi, ma come sempre personalmente io le ceste, non è che le... Ohia ma ci sono gratis, Ah vabbè ma qua... Oh madonna ricevi, ottieni almeno mille pietre dell'anima in un mese, ahhh che pasqua, ecco questa è la cosa ad esempio per quei codici che vi ho dato, in primo luogo non è la... Ah la Steam Daily Chest, ah se collego il mio account Steam posso ritirare gratis questa cesta, mentre per questa la Weekly Chest accedi per 7 giorni consecutivi, ahhh che pasqua, no niente per ritirare questa cesta anche se sono gratis dovete rispettare delle condizioni che per il momento io non ho, come vedete ho già farmato un pochettino di gemme appunto facendo login giornalieri e quant'altro, infatti ho 110 gemme, ma cosa importante, è importantissimo questo passaggio, se volete un gioco sicuro, quanto meno il sito mi ha assicurato, adesso comunque lo andremo a vedere, che nel cofanetto dell'Archimago è davvero altissima, la probabilità che troviate qualche key di qualche gioco figo, ok? Infatti adesso le andremo ad aprire, prima vabbè apriamo la Welcome Chest, ma questa chest vi darà una runa, se volete sapere sempre il funzionamento di rune e quant'altro, vi ricordo sempre il video che vi lascerò nelle schede, non dura tanto, mi vero che dura una decina, quindicina di minuti massi, uuuuh, qual è la runa? Vediamo, runa malnazzo, aggiungi all'equipaggiamento, questa runa mi permette di, ah, ok, guadagnerò il 40% delle pietre dell'anime, ogni volta che mi connetto giornalmente, va bene dai, ci può stare, piccola informazione, in questo cofanetto, nel cofanetto dell'Archimago, all'interno di questa cesta, è possibile trovare giochi, veramente figli, quantomeno a detta del sito, adesso noi comunque, la apriremo dopo, prima voglio aprire quella del novizio, che vi ricordo, se volete aprirla, dovete aver fatto almeno 500 gemme, ok, non mi venite a dire, Pepo, a me il link non funziona, perché grazie al cazzo, se non vi fate le gemme, quindi un consiglio che vi posso dare, quantomeno adesso andremo a vedere per l'Archimago, intanto apriamo il cofanetto del novizio, vediamo che troviamo, qua dubito si trovi un gioco, perché 500 gemme si fanno abbastanza easy, vediamo, difatti abbiamo ottenuto una runa, va benissimo, ma più che altro, a me quello che mi incuriosisce, è appunto il cofanetto dell'Archimago, che per aprirlo dovete aver farmato almeno 2000 gemme, apriamo il cofanetto, e vediamo se ne vale la pena, se le probabilità sono alte, io sfortunatamente, ahimè, non le so, ve lo posso dare un consiglio, farmare 2000 gemme, se sono solo 2000, non è difficilissimo, ok, se volete un consiglio, fin quando questo codice è attivo, al massimo vi create un account, sfortunatamente dovete per forza utilizzare, il link che c'ho io in basso, altrimenti queste ceste non ve le dà, vi create un nuovo account, vi fate 2000 gemme, e poi vi prendete col codice, questa ceste, la aprite, se non ci trovate nulla, vi ricreate magari un nuovo account, con una nuova mail, lo so ragazzi, serve sbatti, però se ci avete lo sbatti, potete tranquillamente farlo ragazzi, perché questo codice penso rimarrà attivo, su questo account, quindi, cioè ve lo consiglio, oh ragazzi, mi hanno dato una key di Shadow of the Tomb Raider, su Steam, gioco che su Steam mi manca, quindi magari, me lo metto su Steam, e ve lo dico già ora, se per caso trovate, giochi fighi, la key vi verrà data entro 24 barra 48 ore, basta che andate in questa sezione qua, il tuo equipaggiamento, e vedrete il vostro premio, con tipo un orologio sotto, vedete? E in questa sezione gialla, quando vi avranno dato la key, non ci sarà più scritto, spedizione del premio in corso, ma ci sarà scritta appunto, la key del gioco, che dovrete inserire su Steam, o dipende appunto, se andrete ad aprire i cofanetti di PS4, barra Xbox, poi altro da dire, credo basta, cioè questi sono gli aggiornamenti, essenzialmente, che ha fatto Gamehug, ovvero possibilità di prendere giochi, tramite le ceste per PS4, Xbox One, andando nella sezione, ottieni, e cliccando giochi, come vedete, è possibile, ad esempio, su War Thunder, farmare direttamente, 2400 gemme, vediamo gli obiettivi da fare, comunque 2400 gemme, so tante eh, sono 2400 gemme, però per tre compiti, in questo caso, dovreste scaricarvi il gioco, da questo tastino qua, e andare a fare, appunto, le battaglie, in questo caso, vinci cinque battaglie, e non appena vincerete cinque battaglie, vi daranno 720 gemme, poi dovrete andare a fare il secondo, e bla 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 bla, comunque, sono tutti free to play, ragazzi, voi scaricate appunto, il free to play, in questione, fate quello che vi chiede, bla bla bla, questo qua, 660 gemme, magari fatevi questi dei giochi, infatti, vedi, 660 gemme per un gioco, avanza il tuo eroe, fino al livello 40, e la madonna, quanto tempo ci vuole, addirittura, se scendete, ci stanno tutti i commenti, no, ad esempio questo qua, non mi dà le gemme, uno dei giochi più belli, a cui vi abbiamo mai giocato, ma anche io, vorrei like, bello gioco stupendo, bello, ma non mi dà le gemme, quando non vi dà le gemme, ragazzi, contattate Misty, che Misty sarebbe il supporter, del, come si chiama, quindi, ok, vi posso dire che l'idea è davvero figa, la cosa del, prendere i giochi gratuitamente, e ovviamente, bisogna farsi il culo, bisogna farmare, quanto è, se non volete spendere soldi, perché io, ve lo dico sinceramente, ma questo sono io, perché io comunque un lavoro, è uno stipendio, io piuttosto che scaricare un gioco, e fare il livello 40, capite bene, piuttosto spendo 70 euro di gioco, e ce l'ho qua, però se voi, magari capisco bene, non avete 70 euro da spendere, su Red Dead Redemption, magari dedicate, una settimana del vostro tempo, a questo sito, però magari, se avete culo, ve lo andate a prendere, tramite i premi, che vi ricordo sempre, se andate nella sezione premi, vi potete prendere, il gioco che vi interessa, direttamente, ad esempio, un Rocket League, a 7500 gemme, vi farmate, 7400 gemme, andate su, qua ci sarà appunto, in questa cosa, acquista, in questo caso, lo pagherete appunto, con le vostre gemme, e in tempo 24, 48 ore, a volte anche, quel cosino in più, a volte anche 36 ore, almeno dipende, perché sabato e domenica, non vi arriva nulla, quindi già ve lo dico, perché ci sono passato, che io mi ero farmato, qualche gemma, per provare, prima il sito, l'avevo fatta di sabato, capite bene, sono stato sabato e domenica, non fare niente, lunedì non mi è arrivata, mi è arrivata martedì, quindi ci ha messo, 48 ore, ma sono 48 ore, giorni di lavoro, perché sabato e domenica, appunto, patate, quindi, quindi, sì, ragazzi, semplicemente, questo era quello che volevo dirvi, se avete tempo, da dedicare a queste cose, ve lo consiglio, se siete persone, proprio totalmente, prive di pazienza, che vogliono, diciamo, in modo brutto, la pappa, presto e subito, ragazzi, non è cosa per voi, perché capite bene, dovete perderci un po' di tempo, va, per prendere, ad esempio, queste 2400 gemme, su War Thunder, quantomeno un minimo, dovete giocare, non vi aspettate, che aprite il gioco, in 10 minuti, fate, ma, io penso, che almeno, un paio d'ore di gioco, le dovete fare, poi non conosco, gli altri due obiettivi, perché sono bloccati, però, per vincere 5 battaglie, credo, che comunque, un minimo, vi dovete impegnare, poi per fortuna, conosco il gioco War Thunder, il gioco funziona, a gruppi, ok, se avete culo, entrate nella partita, nel team forte, e vincete, perché il team ha vinto, capito, cioè, non è vinci 5 battaglie, tu, singolo, fortunatamente, capite bene, perché un nabo, difficile che vince all'inizio, gli giochi online, quindi, ok, detto ciò, nulla ragazzi, il video era questo, vi volevo informare, l'idea è molto carina, come sempre, io appoggio queste cose, che danno la possibilità, all'utenza, che c'ha voglia, di fare un minimo, può prendersi giochi, anche di un certo costo, vi ricordo, nuovamente, che dal 23 novembre, al 26 novembre, tutti i cofanetti, e non so i premi, ma comunque, tutti i cofanetti, saranno scontati, del 50%, e soprattutto, cosa più importante, i codici, che vi lascio qui sotto, in descrizione, così potrete copiarli, e incollarli, vi faccio rivedere, nuovamente la sezione, su ottieni, mostra più, i codici, che vi lascio in descrizione, li andate a inserire qua, e per ritirarli, vi servono, 500 gemme, per la cesta, del novizio, e 2000 gemme, per la cesta, dell'arcimago, ok, non mi venite a scrivere, Pepo, ma perché a me, le ceste, non me le dà, perché, ma tu mi, veramente, l'ho detto, l'altra volta, c'è gente, che me l'ha scritto, ma veramente, sono seguito, da ritardati, un attimo, ok, perché nonostante ciò, l'altra volta, c'è gente, che è riuscita a commentare, Pepo, ma a me, non li dà, non funziona, te lo sto dicendo, in primis, ti devi essere registrato, tramite il link sotto, se ti sei registrato, tramite sito, non va, secondo, hai farmato le gemme, prima di mettere il codice, se non le hai farmate, non te le dà, e il minimo richiesto, sono 500 e 2000, it's alright, it's alright, detto ciò guys, la trovo una cosa, molto carina, ci dovrete perdere tempo, ma, se la cosa, non vi dà fastidio, magari in una settimana, potreste trovare, sempre nei cofanetti, i gai di giochi, tipo, GTA 5, Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider, appunto, l'avete visto prima, che ho ritirato la key, che mi arriverà questa domani, questa key, ve lo dico sinceramente, me la metto io su Steam, e me so sorry, ma, diciamo, la vorrei usare, più che altro, per speed rambingo, e nulla, penso di aver detto tutto, se il video vi è piaciuto, come sempre, c'è un bel pollicione, in su, qui sotto al video, e basta, vi voglio bene, e ciao ciao. Il video è finito, iscriviti al canale, e se te lì sei persi, guarda questi video qua, yeah, e basta tutto qua, se poi hai visto anche questi due video, ci vedremo domani con un prossimo, forse, e... e... Grazie.